sono marco picchio e sono uno speaker radiofonico dall'umbria e chiaramente faccio radio da tanti anni e se siete curiosi di conoscere il mio profilo cercatelo su voci fm ciao scusate lo zainetto me lo mandate perché mi servirebbe che devo andare al mare salve voci io l'ho fatto quindi fatelo subito anche voi allora fase 1 prendete il vostro smartphone e registrate un breve video di presentazione una cosa smart divertente capito perché siamo veramente curiosi di sapere che faccia avete fase 2 memorizzate il contatto whatsapp di voci fm che è 349 50 51 166 ve lo ripeto è 349 50 51 166 e inviate il video fase 3 noi lo pubblichiamo sui nostri canali social nell'ambito di questa nuova rubrica che si chiama voci in video fase 4 forse la più divertente per voi riceverete a casa i grandi gadget per l'estate di voci fm quindi in primis il mitico zainetto che è veramente fantastico per le grandi zingarate d'estate al mare a dimenticavo non cancellate il numero è perché potrà servirvi per tante altre grandi iniziative divertenti in seguito ciao voci punto fm il sito del progetto 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 del